Figure nel paesaggio del 1960, parte della collezione permanente del Mambo dal 1962. Pompiglio Mandelli nasce nel 1912 a Villarotta di Luzzara, nel Reggiano, e crescerà disegnando i paesaggi creati dal film Epo, colori di una natura che lo accompagneranno lungo tutta la sua vita. Nel 1928 si trasferirà a Bologna per frequentare prima l'Iceo Artistico e poi l'Accademia di Belle Arti. Pompiglio Mandelli sarà uno dei protagonisti del fermento artistico bolognese nell'immediato dopoguerra. Dopo un viaggio a Parigi compiuto nel 1947, guardando all'opera di maestri quali Soutine e Monet, Mandelli inizierà una trasformazione nel suo modo di dipingere, che lo porterà ad un'arte dalla forte impronta espressionista, che vede nella decostruzione della forma una ricerca di astrazione propria della corrente informale. Arcangeli nel 1951 scriverà su Mandelli queste parole. Su quello schermo interiore, animandosi dalla sommessa inquietudine di certe impronte, di certi sogni che vi erano come prefigurati, appaiono allora, nel giromesto ridente di un paesaggio, i ricordi della luce di questa terra, o appena balenano figure, come fragili dolce larve salvate dalla memoria e dal cuore. Impronte che troviamo in questa sua opera dal titolo Figure nel paesaggio del 1960. Qui il colore non è mai continuo, ma vibra sulla tela, luminoso come l'olio, impastato fino a diventare materia. Se potessimo ora vederlo all'opera, la tela ondeggerebbe sotto i suoi colpi di pennello. Gli stessi colpi farebbero eco nella stanza. Il colore diverrebbe suono, parlerebbe di quella stessa energia della natura di cui l'uomo è parte e che non può combattere. Quella natura che ci chiede a gran voce di essere ascoltata, con sensi che vanno oltre il semplice udito. Come Mandelli, concediamoci di ascoltare. Grazie a tutti.